Una doppietta di Bonucci su rigore decide una partita abbastanza bloccata, il secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A termina con il punteggio di 2-0 a favore della Juventus che così fa un valso importante in classifica in Serie A. Amiche e amici appassionati di grande calcio, buonasera e benvenuti su Mollerino, Sporciano e ragazzi. Parliamo di questo incontro di Serie A, un incontro molto strano soprattutto, il classico incontro da post-sosta delle nazionali con le squadre un po' sballottate quelle lì. Una Lazio che ha fatto una partita davvero insufficiente nella maggior parte dei suoi uomini, era orfana del suo grande sicuramente giocatore quale Ciro Immobile che è vittima di un infortunio e l'assenza si è vista davvero tantissimo perché Scesni è stato quasi uno spettatore non pagante. Veramente, prestazione di Scesni, davvero, non ha fatto veramente assolutamente nulla. Per quanto riguarda la partita, sembra bloccata ma gira a causa di un fallo da parte di Cataldi su Morata. Inizialmente l'arbitro Di Bello non ha ravvisato alcun intervento irregolare da parte del centrocampista centrale laziale nei confronti della punta spagnola della Juve. Dopodiché però è stato richiamato dal VAR, così è dovuto andare appunto a rivedere l'episodio alla vita assistant referee, allo filo di review. E effettivamente il fallerà da rigore, con Cataldi che va contro Morata e non prende mai il pallone. Rigore giusto, rigore tirato da Bonucci, e poi vabbè sul fantacalcio c'è una cosa di equa su Bonucci, poi lo vedrete nel video appunto dedicato al fantacalcio che uscirà fra martedì e mercoledì, vi ricordo chiaramente, perché la giornata termina il lunedì quest'oggi. E dopodiché la Juve effettivamente è sempre in controllo della partita, praticamente sempre. L'azione più pericolosa della Lazio, poi ci arriveremo, sarà nel secondo tempo. Perché poi nel secondo tempo la Lazio toglie Immobile, e ci toglie Immobile, toglie Zaccagni e mette Murici, un attaccante super meme. I 20 milioni peggio spesi della storia del calcio probabilmente, quelli di Murici, che veramente è stato uno degli acquisti peggiori usciti della gestione Lotito. Entra Murici, quindi chiaramente si ha almeno un riferimento là davanti per i giocatori appunto laziali. E l'azione ce l'avevano anche, perché sulla sponda di Nikoi Savic, veramente, se solo avesse avuto quel minimo di atletismo in più Murici, sarebbe potuto essere davvero gol. E io avrei riso tantissimo, perché veramente prendere gol da Murici equivaleva a prendere gol dall'attaccante del Montagna Reale, va. Cioè, per farvi una proporzione. Invece arriva la scelta scelerata di Reina, che esce su Chiesa, poi ritorna, gli fa un fallo da dietro, depenalizzazione quindi soltanto, cartellino giallo per il portiere ex Liverpool ed ex Napoli, calcio di rigore chiaramente, rigore che viene battuto da Bonucci, che segna ancora un altro gol, quindi 8 più 6,14 per il giocatore della Juventus. Partita che poi finisce così, una partita abbastanza varia di emozioni, si vede che queste squadre si devono appunto ritrovare dopo la parentesi delle nazionali. Una vittoria che fa bene alla classifica della Juve perché agguanta la Lazio a quota 21 punti, provvisoriamente quinta in classifica, a meno 4 dall'Atalanta che ha giocato quest'oggi e vinto nel primo anticipo contro lo Spezia, mentre invece la Lazio rimane a 21 punti. Adesso le uniche squadre che possono raggiungere queste compagini sono la Roma, la Fiorentina e il Bologna. La Roma addirittura con una vittoria a Marassi domani sera potrebbe andare a superare, Geno Peppe dopo potrebbe andare appunto a superare la squadra, le due squadre appunto Lazio e Juventus che si sono giocate oggi. Detto questo, piccoli inconvenienti, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!